Siamo tornati a una nuova puntata insieme di facciamo finta che il ritorno di Davide Ramuno come stai? Ciao a tutti sto benissimo adesso poiché c'è il governo Dragoni mi sento perfettamente rappresentato e finalmente viva la libertà ecco così partenza col botto col botto rimanimi bello caldo perché fra l'altro con te inauguriamo ufficialmente aperta la stagione per prenotare la nostra conferenza dal vivo a Milano domenica 27 quindi ci tengo tanto eccoci qua 27 novembre Milano dal vivo questi sono gli ospiti che abbiamo già e ci sono c'è già un numero al quale scrivere un sms un whatsapp per incontrarci dal vivo mi aspetto tanto dalla città di Milano che mi ha ospitato anche recentemente ad una ad un evento in cui ho parlato della libertà di stampa del di tutto ciò che è la pace del caro bollette insomma non ci siamo fatti mancare nulla assegnatevi questo numero che fra l'altro vale per tutti gli eventi in cui vi spieghiamo anche le modalità un abbraccio anche a maz che ha subito contribuito un grazie di cuore a tutti i sostenitori veterani fedelissimi abbonati questa sera dovremmo infrangere il muro dei 45 mila iscritti quindi sono numeri non è che non che conti meno del 44 millesimo e 999 ma cifra tonda fa un po' ben sperare per una crescita futura ti sei fatto un po' desiderare ma so che hai avuto tanto di cui lavorare vero davide sì mi sono reso conto che mancavo da tanto quando ho visto che ti vedevo più dal vivo che su youtube no e che è meglio è meglio vedersi dal vivo chiariamo no diciamo che c'è il tempo per parlare c'è il tempo per studiare tempo per disegnare insomma per fare tante cose no quindi ho fatto diciamo delle ricerche anche se il tema che introdurremo oggi affronteremo oggi è per me molto vecchio ed è quello che forse mi sta tra più insomma mi sta molto a cuore e anche perché questo ho scritto oggi appunto abbiamo pubblicato dico abbiamo perché è un lavoro di collettivo e il libro l'albero della vita e insomma è a parecchi anni a parecchi anni più di sette anni e desideravo da anni proprio fare questa questa puntata condividere queste queste informazioni e quindi insomma ti ringrazio ancora per avermi messo a disposizione non solo il canale ma proprio anche le risorse umane insomma di facciamo finta che che mi hanno appunto supportato e quindi non mi hanno lasciato da solo mettiamola così bene quest'oggi come al solito in regia il buon mesbet anche lui non in splendida forma quindi apprezziamo ulteriormente lo sforzo per non lasciarci da soli quindi sono sono giornate in cui a livello energetico magari poi approfondiamo a livello energetico vedo tanta gente stanca tanta gente che sta un po accusando il colpo quindi un'epoca di cambiamento il cambio di stagione dobbiamo stringerci un po' fra di noi a maggior ragione di riunirci dal vivo perché dobbiamo ricaricarci ci servono le energie e allora davide io non non andrei troppo a ciurlare il camperlaia a menare un po' così le persone un po' in giro perché so che fra l'altro il tema di di questa di questa sera è veramente veramente ricco e allora io mi metto qui per benino scriviamo anche in chat raccontaci un po' perché fin dalla copertina fino a questo disegno stupendo in realtà mi aspetto molto da questa serata allora comincio con una delle mie innumerevoli premesse diciamo che questa è un'indagine che nasce da innanzitutto da un caso personale che ha riguardato insomma che riguarda purtroppo tuttora diverse famiglie che riguarda appunto la malattia più non so come dire infame che è il cancro non è il covid mi spiace ma e quindi diciamo questa ricerca nasce proprio in primo luogo da diciamo diversi protocolli di cura alternativi per appunto il cancro che si manifesta in diverse forme la passione per che scrivendo io a 19 anni ho letto guerra atomica al tempo degli dei in cui praticamente parlava di queste divinità di questi annunaki che stando al mito si fregiavano di una vita addirittura millenarie e dalla conoscenza con una persona maestro posso certamente definirlo così nel campo dell'olivicoltura quindi tutto ciò che riguarda l'olivo e posso assicurare che noi italiani benché insomma siamo il cuore della civiltà della ex civiltà mediterranea ne sappiamo veramente poco di olivo e quindi di olio extravergine e quindi questi tre orizzonti ricerche sulla cura contro il cancro la cultura dell'olivo e tutto il discorso avviato da Zeccaria Sicci, Mauro Viglino, Enrico Baccarini, Vittor Nunzi, Alessandro De Montis insomma tutti questi grandissimi relatori che hanno portato avanti comunque il high motive del facciamo finta che gli antichi ci abbiano detto cose reali sono confluite verso questo libro che è l'albero della vita così è il titolo e che chiaramente fa riferimento proprio al leggendario albero uno degli alberi che era nell'Eden, nel Gan Eden questa appunto è l'immagine che potete vedere che mi ha regalato, io ho il piacere di condividere con voi il grandissimo Gianluca Capaldo fa appunto, mostra proprio questo, l'emblema di quest'albero dorato come poi scopriremo nella puntata potrebbe non essere proprio un'immagine, una semplice immagine figurata ma potrebbe essere veramente così e con i due, sono due genialati tratti dalla cultura e dalla iconografia mesopotamica e babilonese e a sinistra e a destra voi potete vedere i due leader, insomma due fratelli che sono una coppia divina che contraddistingue ogni epica alla sinistra trovate Enki e alla vostra destra che ha il simbolo del serpente sul petto chi ha avuto occasione di leggere il libro Superel o di vedere qualche puntata che abbiamo fatto qui su Superel in cui si parlava appunto di come il simbolo di Superman e tutta la storia di Superman fosse in realtà la versione postmoderna di un antico mito appunto babilonese e sulla destra invece abbiamo Elil con una croce uncinata sul petto e la folgore già perché appunto sono per dirla insomma in modo più semplice uno è il serpente della Bibbia e l'altro è invece l'Elohim che corrisponde appunto insomma l'Elohim che era incazzato con la razza umana quello che ha permesso il diluvio universale al fine di far estinguere proprio come ci racconta il mito gli uomini la razza degli uomini e niente quindi vi ho già svelato perché parlandovi dell'olivo chiaramente è l'olivo l'albero della vita secondo almeno le mie ricerche che appunto ho il piacere di condividere con voi ma non basta ecco non basta l'olivo adesso capiremo perché allora innanzitutto parliamo di questo giardino di questo Gan Eden per chi ne mastica un pochino ha sentito anche ha letto i libri nella fattispecie di di Buffa e di Mauro Bino questo Gan Eden si configura come una sorta di serra fondamentalmente dove ci sono diversi alberi e il custode di questo giardino è l'Adam quindi cercherò di sintetizzare perché i discorsi sono ampissimi io poi faccio già un sacco di parentesi e quindi cercherò proprio di stringere il più possibile magari faremo anche un'altra puntata non lo so comunque cercherò di andremo a braccio ma cercherò di parlare nel modo più semplice possibile per arrivare a più persone possibili ecco ecco diciamo che nella Bibbia che la quale comunque è una sorta di sunto almeno mi riferisco all'Antico Testamento una sorta di sunto di epiche precedenti nella fattispecie in primo luogo quella marbilonese quindi quella mesopotamica c'erano due alberi che la facevano da padrone insomma l'albero della conoscenza del bene e del male e l'albero della vita eterna consideriamo che Adamo mangia il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male frutto che la tradizione ha identificato nella mela anche se in realtà non è così lo vedremo però più avanti quindi questo lo vedremo più avanti in realtà comunque è il fico ecco l'albero non è quindi la mela si è stato identificato nella mela è per una errata traduzione durante il Medioevo tra malum e melum visto che fondamentalmente il frutto è quello del peccato originale allora si è giocato con la parola malum e quindi si è arrivati al melo fondamentalmente ma il frutto è appunto il fico e ad ogni modo nel momento in cui Adamo ed Eva mangiano questo frutto poi andremo a vedere anche che cosa consiste questo cogliere il frutto questo conoscere il frutto già questo comunque Mauro Bino l'ha spiegato molto bene però diciamo cercherò di aggiungere un pezzo magari anche io nella mia insomma nel mio piccolo ecco cercherò magari di aggiungere qualcosa spero e c'è un altro albero che è il motivo per cui Dio insomma i Elohim cacciano l'uomo lo allontanano nella natura selvaggia quindi fuori dal Gan Eden ed è l'albero della vita eterna perché? perché se l'uomo avesse colto se l'Adam avesse colto anche quel frutto allora sarebbe stato riuscito alla Bibbia come come Dio come gli dèi perché comunque era un consiglio di dèi no? quindi non era un plurale majestatis cioè l'Adam dopo essere diventato autocosciente perché dopo che mangia quel frutto ha la percezione di essere nudo quindi ha la consapevolezza di essere nudo il anche lì il cogliere il frutto come ha spiegato Morobino benissimo è l'atto sessuale proprio senza girarci intorno ecco mentre invece il frutto della della vita eterna dell'albero della vita eterna poteva conferire all'Adam una longevità incredibile già perché se noi andiamo a vedere anche la vita dei patriarchi biblici a cominciare da Adamo la loro vita è è folle nel senso che Adamo muore dopo i novecento anni ora se noi rapportiamo questa cosa al nostro orologio biologico chiaramente vacilliamo nel senso abbiamo veramente fatichiamo a credere che ciò possa essere vero no ecco il problema è che queste date non le trovi queste date folli non le troviamo soltanto nella Bibbia ma le troviamo anche in in tutte le civiltà le troviamo anche Manetone che fa una lista dei re dei 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 semi dei perché poi anche qui abbiamo le l'età che vengono classificate c'è l'età degli dei degli semi dei ogni età viene associata ad un minerale l'oro l'argento il bronzo insomma no quindi ci sono diversi storici che riportano egiziani babilonesi da Erodoto a Manetone a Beroso riportano delle date che sono veramente assurde no eppure noi siamo siamo qui a far finta che quelle date siano vere ebbene può esistere un frutto in grado di dare una longevità esponenziale questa è la è la prima domanda no cioè è vero il racconto che ci hanno che troviamo in primo luogo nella Bibbia ma in tutte le le cose le le come possiamo dire in tutte le teogonie insomma in tutte le epiche no ebbene secondo me sì secondo me sì e io penso di aver identificato questa pianta nell'olivo il problema è che anche qua bisogna andare a vedere la genesi dell'olivo identificarne le varie cultivar perché ne esistono più di 1500 o più o meno 1575 e andare a vedere innanzitutto come è nato e soprattutto se oltre insomma quale fosse il ruolo dell'olivo perché chiaramente anche qui senza fare senza giocare con la retorica no anche assumere un quantitativo costante di olio extravergine di oliva può certamente attenuare le stimmate della vecchiaia ma non conferirci una longevità come quella dei patriarchi biblici no ecco questi sono i nodi che noi cercheremo di andare a sciogliere la premessa è che possa quindi la premessa secondo me questa premessa va fatta cioè esiste un alimento che può dilatare in un modo incredibile il nostro orologio biologico beh su questo su questo punto nel libro che Mauro Bellino ha scritto insieme a Cinzia Mele i Dei del Baltico viene fatto l'esempio proprio dell'ape della perigina la quale biologicamente si presenta simile alle api operaie per dire no la differenza è che lei viene nutrita soltanto con la papareale solo con la papareale ecco questo fa la differenza sull'orologio biologico della perigina in quanto lei può vivere fino a sei volte tanto la vita di una di un'ape normale quindi usciamo dal paradigma dell'essere umano che rapporta che misura tutto quanto nella natura con con il proprio orologio biologico no quindi non è impossibile non è impossibile una una vita lunga anche quattro cinque volte la nostra no perché se questo può valere per un'ape può certamente valere anche per un essere umano quindi questo però è solo una premessa del tipo concettuale no bene per far capire quindi che non stiamo che quindi se in natura già avviene una cosa del genere può avvenire una cosa del genere allora non possiamo escluderlo a priori anche nel nostro contesto bene andiamo a vedere innanzitutto che cosa ha di caratteristico l'olivo bene l'olivo nasce insieme alla vite al frumento all'incirca più di diecimila anni fa dove questa è una bella domanda perché ad oggi sono stati riconosciuti almeno tre architipi ancestrali dell'olivo uno della zona di Gibilterra uno del marionio scusami del marigeo e l'altra attribuibile imputabile alla zona dell'Iran Siria Turchia insomma più verso la Turchia perché poi dopo questi tre paradigmi avrebbero incorporato dentro di sé diciamo altre caratteristiche fino a creare un ventaglio di cultivar che supera le 1500 quindi parliamo ovviamente dell'olio europea ecco l'olio europea ha tre paradigmi ancestrali la quale a sua volta hanno incorporato dentro il loro pedigree genetico delle delle caratteristiche che hanno permesso proprio hanno portato ad una varietà di cultivar incredibile il cui 30% di queste quasi 1600 cultivar sono solo in Italia e ognuna ha delle caratteristiche completamente diverse quindi non si tratta soltanto di proprietà organolettiche diverse ma ognuna interagisce con il nostro DNA in modo completamente diverso ecco l'olivo è ha una una chimica che è perfettamente complementare a quella della razza umana a quella dell'homo sapiens perché ogni cultivar va a interagire con il nostro genoma in modo diverso come se fossero diciamo dei farmaci diversi sì ho usato la parola farmaco farmacos perché l'olivo è stato quindi l'olio e quindi il suo frutto no quindi dall'olivo l'elisir di lunga vita quindi l'olio extravergine d'oliva è stato riconosciuto persino dagli americani quindi dalla food and drug administration quattro anni fa come farmaco quindi l'olio extravergine d'oliva è un farmaco a tutti gli effetti e quindi non semplicemente un alimento salutare ma un farmaco questa è una cosa molto importante che andremo poi dopo a dettagliare bene l'olivo nasce insieme alla vite e al frumento da questo sostrato indefinito da questo alle soglie del neolitico così boom dal nulla ecco la versione ufficiale chiaramente dice che l'olivo non nasce così in natura l'olivo nasce dalla domesticazione dell'oleastro quindi di un olivo selvatico però queste sono parole che non rivelano niente anzi nascondono la verità perché parlare di domesticazione che cosa vuol dire considerate che l'olivo comincia a essere una pianta matura diciamo dopo i 15 anni e comincia a strutturarsi in modo diciamo integrale dopo i 50 anni quindi pensare che l'uomo del neolitico che doveva vivere di caccia e di bacche e radici e di pasti frugali potesse aver fatto una selezione artificiale quindi basata sul fenotipo quindi sulle caratteristiche visibili esterne su una pianta che aveva prospettive di vita più lunghe di lui stesso è completamente patetico e assurdo come avrebbe potuto l'uomo del neolitico selezionare alcuni oleastri e fare degli esperimenti durante di generazione in generazione per ottenerne un prodotto finale quale l'olio europea considerate che l'olio europea è una delle 600 specie di oleacee e di queste 600 è l'unica che ha un frutto commestibile quindi questo è per dire che le oleacee chiaramente non si prestano non si prestano proprio a dare frutti commestibili no a maggior ragione l'oleastro l'oleastro aveva insomma il frutto dell'oleastro non era commestibile era parliamo appunto di una di un frutto completamente astringente l'oleastro andava bene solo per le frasche fondamentalmente quindi come avrebbe fatto l'uomo del neolitico a immaginarsi che prendendo l'oleastro e agendo tramite la selezione artificiale insomma da quella pianta che non si prestava per natura a fornire un nutrimento all'uomo poteva appunto costituire dentro di sé celare dentro di sé delle potenzialità genetiche tali da renderlo un giorno utile e indispensabile addirittura un farmaco oltre che alimento come l'olivo vuol dire che l'uomo del neolitico doveva essere insomma un precog direbbe no la Enrica Perrucchetti no cioè doveva essere un profeta come poteva immaginarlo ecco questo identico miracolo è avvenuto anche per la vite anche per la vite non entro nel dettaglio ma consideriamo che la vite sativa quindi quella da vino e quella selvatica la silvestris sono completamente diverse anche perché la vite sativa è una pianta ermafrodite così che ogni anno può assicurarsi insomma la vendemmia no mentre c'è quella selvatica o è maschile o femminile insomma ripeto non voglio adesso entrare nel tecnico perché sennò cambiate canale però è per dire che anche nel contesto della vite l'uomo del neolitico doveva avere delle incredibili competenze e cognizioni scientifiche per poter modellare la pianta allo stato naturale quindi selvatico per arrivare a ottenerne appunto o la vite la vite sativa o nel contesto l'olio europea cioè quindi delle piante che potessero dare un nutrimento all'uomo con caratteristiche sublime incredibili quindi la domesticazione come è avvenuta la domesticazione come abbiamo visto nel contesto dell'olivo e la i tempi anche di maturazione dell'olivo che sono lunghissimi non davano adito all'uomo del neolitico a molti esperimenti no? quindi qual è la spiegazione? sbucano fuori dal nulla bene gli antichi ce lo dicono sono piante divine perché gliele hanno dati gli dei punto se noi andiamo a vedere la la Bibbia innanzitutto è un testo di agronomia di botanica Yahweh ne sa un casino no? di botanica e ed ecco anche i patriarchi se noi pensiamo a Noè o Ziusudra o Pnathishim dell'epica babilonese la prima cosa che fa quando esce dall'arca è piantare una vigna piantare una vigna quindi che cosa vuol dire? vuol dire che Noè che doveva essere uno dei primi insomma non è che lì non si va a prendere la vite silvestre e fa gli esperimenti di selezione artificiale fino a ottenere una vite no pianta un seme il fatto che l'olivo la vite il il frumento siano sbucate tutte nella stessa identica zona contemporaneamente lascia presumere che quindi siano state piantate quindi i patriarchi diciamo le persone che sono agli albori della gli uomini che sono agli albori della civiltà non hanno modellato loro le piante ma le hanno seminate le hanno semplicemente seminate quindi però questo non risponde alla domanda chi le ha create perché questo è il vero verbo che bisognerebbe utilizzare l'olivo la vite il frumento presentano delle caratteristiche genetiche tali che sembrano essere degli OGM quindi degli organismi geneticamente modificati esattamente come l'homo sapiens quindi la domesticazione dell'homo sapiens è esattamente questo ora io chiaramente sono un filosofo e non ci entro nel dettaglio per chi volesse saperne di più al di là del libro l'albero della vita che comunque richiama sempre le fonti quindi le mie opinioni sono irrilevanti conta solo ciò che può essere provato invito tutti a leggere il libro di Buffa del dottor Buffa che lui è un biologo molecolare e dà delle evidenze sul fatto che l'essere umano non è certamente il parto della selezione naturale mettiamola così ecco questa questa cosa vale anche per le piante quindi come l'olivo come la vite come il frumento ma noi ci interessa in primo luogo l'olivo perché l'olivo è una pianta sacra addirittura nella Bibbia viene indicato come il re degli alberi il re degli alberi già questo considerando che l'albero della vita eterna nel Gan Eden era il più importante di tutti proprio perché poteva dare la longevità agli uomini si tale da renderli uguali e simili agli dei il fatto che nella Bibbia venga indicato come il re degli alberi è un indizio lo mettiamo lì da parte ma se noi andiamo a fare dei confronti con le altre civiltà scopriamo che anche lì l'olivo è forse la pianta più importante di tutte andiamo quindi dai greci visto che i greci ci hanno lasciato due eredità uno è la filosofia indispensabile per l'immortalità della coscienza e l'altra è l'olivo i romani hanno mutuato proprio la cultura dell'olivo e la parola è giusta vabbè cultura dell'olivo loro avevano delle leggi che addirittura condannavano a morte chi sradicava un olivo noi oggi invece grazie alle fasulle normative europee addirittura abbiamo introdotto il concetto di sboscamento preventivo ma lo vedremo dopo ebbene l'olivo può forse essere la chiave per se non l'immortalità del corpo quanto meno una vita priva delle stimmate della morte già perché l'uomo oltre alla vorrei dire intelligenza anche se gli ultimi tre anni sembrano dire il contrario però chiaramente non tutti fortunatamente siamo uguali una delle caratteristiche autoctone della nostra sciagurata specie è proprio la vecchiaia nel senso che gli uomini si rivelano molto più vulnerabili alle malattie rispetto agli altri rispetto agli altri quantomeno ai mamiferi no? e questo lo vediamo già subito dalla nascita già questo è un concetto che ha molto spiegato ci tengo a precisarlo molto bene il dottor Buffa è il fatto che nel momento in cui noi nasciamo quindi il feto si sviluppa dopo in teoria una gestazione di nove mesi il bambino è molto fragile non è autosufficiente dipende in tutto e per tutto da delle cure esogene esterne in questo caso si presume dei genitori anche se non so se posso dire la parola ai genitori però la dico l'ho detta ormai e niente ho anche la modalità del parto cioè il parto è praticamente una tagliola cioè il parto è molto rischioso tanto per il nascituro quanto per la madre proprio perché è come se il bambino sia in effetti in effetti sproporzionato no? ed è lì appunto tutti i problemi durante il parto no? proprio perché insomma devono far quadrare il cerchio adesso mettiamola così no? sorridere questo per altre specie per altri mammiferi certamente non vale quindi se la donna fosse affidata fosse lasciata se stessa diciamo che andrebbe a incontro a un grosso rischio di morte e quindi chiaramente anche il bambino quindi questo è un indizio che ci fa capire come l'uomo non sia il prodotto della selezione naturale perché la selezione naturale qualunque cosa sia dovrebbe selezionare tutto ciò che è più utile più vantaggioso e tutto ciò che agevola la vita mentre invece già dal parto noi se non ci fosse un'equip se non ci fosse qualcuno che aiuta la donna a partorire già già la vita sarebbe finita al principio fondamentalmente nella maggior parte dei casi ecco il quindi quello che ho cercato di far capire è che il destino dell'olivo è intrecciato con quello della nostra specie la genesi dell'uomo è collegata a quella di queste piante incredibili di cui veramente noi ne sappiamo veramente poco e anzi con il proliferare di di queste scienze nutrizionistiche non so come definirle se ne sa ancora di meno perché tutto viene perché le loro proprietà sublimi sono state sono passate in secondo piano a discapito invece di tabelle nutrizionali calorie insomma tutte cose numeri che non ci dicono nulla su quali sono appunto queste capacità su quali sono le loro vere proprietà e su come sono complementari con la chimica del nostro corpo comunque tornando ai greci i greci sono importanti per un motivo per un motivo per un mito ecco diciamo il mito della creazione dell'olivo è abbastanza celebre perché abbiamo un contesto una competizione tra Poseidone e la dea atena e questa competizione è per il dominio dell'attica quindi per il dominio di atene da una parte abbiamo Poseidone che crea il cavallo e dall'altra abbiamo atena che crea e dona appunto agli uomini anche se in realtà non è così diciamo al suo clan l'olivo quindi la competizione è su quale sia il dono più utile agli esseri umani la dea atena vince a mani basse e quindi Poseidone fondamentalmente si incazza e fa sommerge l'attica con con l'acqua quindi con insomma non la prende bene non è abbastanza sportivo ebbene andiamo a vedere che cosa dice però più nel dettaglio questo questo mito l'albero di olivo che la dea atena dona agli uomini viene custodito nel Pandroseion che è un giardino recintato ed è la pianta più importante di tutte ok vi ricordate il re degli alberi è la pianta più importante di tutte consideriamo che l'olivo è una pianta immortale potenzialmente immortale se pensiamo agli olivi dell'orto del Gezzemani in cui Gesù andò a pregare la notte prima di essere catturato e processato molti di quegli olivi sono ancora vivi ci sono ancora oggi quindi se l'olivo ha delle attenzioni viene curato eccetera è geneticamente quasi immortale può è una pianta secolare quindi certamente l'olivo può freggiarsi di dell'epiteto di pianta no eterna ma può una pianta che ha in sé l'eternità conferirla questa è la è il vero è la vera è la vera questione no può farlo ebbene come dicevo prima esistono vari cultivar quindi anche qui non si può parlare di olivo ma di olivi ve ne sono tantissimi no così come abbiamo la vita del barolo e del lambrusco così abbiamo per esempio in Puglia in Puglia c'è per esempio una delle cultivar è la coratina se andiamo in Calabria c'è la carolea in Sicilia la tonda eblea insomma ogni cultivar ha un pedigree genetico diverso consideriamo che per esempio le cultivar che sono in Puglia sono quelle che dal punto di vista officinale sono le più sane di tutte sono infatti le più amare e quell'amarezza è determinata dal quantitativo incredibile di polifenoli quale appunto l'ore europeina che è una delle più importanti che è quella che conferisce poi il sapore amaro no e il pizzicore in gola che ha testimonianza che i principi sono attivi no quindi sono vivi quindi certamente io se dovessi andare a prendere diciamo le cultivar più sane le cultivar più ricche di antiossidanti quindi più salutari andrei certamente a beccare quelle pugliesi no però non vedremo che non è abbastanza non è abbastanza perché l'olivo ha altre caratteristiche che vedremo ora parlavo appunto del pandroseion e di questo appunto giardino recintato con il santuario perché il pandroseion è il santuario che appunto aveva un giardino in cui erano custodite diverse diverse piante bene abbiamo parlato del contest dell'attica e tra quindi per il dominio di Atene il primo re leggendario di Atene si chiamava Cecrobe ora chiamo dalla regia il buon Mesbet l'immagine di Cecrobe che per darvi un'idea è un uomo il primo della dinastia del serpente e che appunto il corpo esattamente metà del corpo è mezzo uomo mezzo serpente grazie Gianluca se riesci anche a far vedere l'immagine quell'altra dove si vede appunto Atena esatto questa qui anche qui appunto possiamo vedere Poseidone quindi con il tridente che dona il cavallo la di Atena che dona l'olivo e Cecrobe che è il primo re leggendario di Atene consideriamo che quando parliamo di di Cecrobe allora Cecrobe innanzitutto che cosa vuol dire il nome vuol dire è nato dalla terra esattamente come Adamo esattamente come Adamo quindi anche nella civiltà greca anche nella cultura greca abbiamo un giardino speciale con una pianta speciale divina e con il il primo della dinastia del serpente noi ricordiamo che Enchi quindi il creatore dell'uomo è appunto il serpente corrisponde al serpente biblico no infatti noi possiamo vedere che appunto Cecrobe è mezzo serpente no tra l'altro il paragone con Adamo è pazzesco se noi andiamo a leggere nel diciamo nel Talmud ci sono dei riferimenti che descrivono fisicamente Adamo e di Adamo si dice che lui dell'Adam si dice che al principio aveva una coda costituita di una coda madre perla o comunque associata alla alla perla o all'unghia no che però poi dopo ha perso cioè quindi era come se fosse una sorta di rivestimento che l'Adam ha poi perso no ecco qui è è molto difficile andare a cercare a spiegare il perché queste figure tra l'altro che ci ricordano moltissimo Ioannes no che erano metà erano insomma degli ibride no metà metà uomini e metà figure insomma come posso dire mezzi pesci tipo tritoni esatto mezzi pesci mezzi mezzi uomini esattamente diciamo che ciò a cui sembra alludere al mito è una è a voler parlare descrivere una accostare la razza umana al mondo anfibio e se noi pensiamo anche alla alla all'embrione alle sue fasi no nella pancia della della mamma no chiaramente il l'embrione cresce in un ambiente acquatico ecco considerate che se veramente la razza umana è figlia di un esperimento di colonazione perché questa è la tecnica questo è il nome colonazione senza girarci intorno no questo lo spiega sempre molto bene il dottor buffa no quindi ciò che viene prelevato da cioè ciò che viene prelevato il campione genetico che viene prelevato da damo per creare eva no serve proprio per ricreare un essere no simile ad ad amo ma di sesso femminile no quindi non non potevano ancora procreare gli adam no quindi parliamo di colonazione ebbene nel momento in cui viene creato un soggetto adulto è lecito pensare che appunto magari il soggetto adulto sia stato come posso dire parliamo di mera speculazione quindi niente di scientifico ma oggi è scienza la colonazione potrebbe essere stato generato all'interno di un utero artificiale se voi andate a cercare su google utero artificiale vedrete questa pecora che è contenuta dentro una specie di busta di plastica che magari potrebbe essere proprio nel momento in cui è stata tratta fuori da questa da questo sacco no artificiale che gli conferiva ai nutrienti magari potrebbe essere proprio l'immagine di questa di questo soggetto adulto di questo uomo che viene tratto proprio da quella che sembra essere una sorta di coda visto che in qualche modo lo conteneva comunque mera speculazione non ci interessa adesso parlare di questo no però quello che è interessante Matrix esatto sì immaginate esatto esattamente quello che è interessante il fatto il parallelismo tra il mito di Adamo e Deva e quello di Cecrope dove appunto anche entrambi l'Adamo quanto Cecrope sono generati dalla terra e e appunto sono dei patriarchi perché appunto Cecrope a sua volta è il primo re leggendario di Atene quindi è lui il capostipite della civiltà dei greci insomma e e anche qui abbiamo un richiamo alla dinastia del serpente e il serpente il nakash no che è sia il sapiente che il serpente che appunto è Enki in India si chiamano i Naga esattamente parliamo praticamente sempre della degli stessi soggetti ma i nomi sono sono anche abbastanza anche molto simili quindi non bisogna anche fare tanti salti di di fantasia ecco bene quindi abbiamo se ricordate quello che ho detto prima cioè che l'olivo è nato insieme alla vite insieme al frumento ho dimenticato un'altra pianta che è quella del fico bene se l'albero della vite eterna è l'olivo l'albero della conoscenza del bene e del male allora o è la vite o è il fico e il frumento non è un albero quantomeno quindi lo escludiamo ecco se noi adesso chiedo alla regia di mandare l'immagine del fico ecco quelli sono degli spermatozoi quindi che in effetti ricordano un po' il nostro ex ministro degli esteri e la somianza mi sembra abbastanza eloquente anche l'encefalo alla stessa esattamente guardiamo all'immagine del guardiamo la figura del fico allora noi sappiamo che cogliere il frutto è un modo di dire per alludere all'atto sessuale questo ripeto non ho aggiunto niente di nuovo alla alle ricerche di Mauro Bino se noi andiamo a leggere l'apocalisse di Mosè sappiamo che l'albero della conoscenza del bene e del male è il fico perché chiaramente nel momento in cui loro vengono sorpresi dal signore appunto sì loro sono nudi quindi sono come due adolescenti che sono stati beccati in flagranza e si coprono come? con le foglie di fico e quindi erano lì vicini non è che poteva essere un altro albero quindi è proprio la logica del contesto però se noi guardiamo il frutto del fico possiamo scoprire delle cose molto importanti secondo la mia visione i loro non solo hanno consumato lato sessuale ma hanno mangiato anche per davvero esattamente come c'è scritto proprio il fico e il fico contiene dei nutrienti contiene dei nutrienti che praticamente danno un boost glicemico e diciamo adesso non so come dirlo in modo elegante però diciamo che facilitano ecco l'atto sessuale mettiamola così quindi loro hanno mangiato veramente il fico e hanno poi dopo consumato l'amplesso quindi se noi chiaramente era là era il frutto del peccato ma se noi guardiamo anche alla forma del fico beh la natura non Dio non gioca a dadi no e proprio i semi contenuti a dire vero il fico non è neanche il frutto è un'escrescenza quindi non è neanche un vero frutto no è molto simile proprio a quella dei testicoli e anche gli stessi semi sono praticamente l'archetipo dello spermatozoo e noi sappiamo che questa viene questa nel medioevo la conoscevano bene che è la teoria delle firme che diciamo ci sono c'è una sorta di complementarità tra molti frutti e gli organi del nostro del nostro corpo pensate alla noce e al cervello pensate al cuore e al pomodoro ecco manco farlo apposta i nutrienti di ogni frutto o ortaggio sono hanno un'azione terapeutica proprio salutare proprio su quell'organo a cui assomiglia quindi i nutrienti della noce sono perfetti e sono proprio complementari per la chimica del nostro cervello e viceversa quindi non è un caso che appunto anche il fico abbia una sua complementarità chimica con appunto la diciamo gli organi riproduttivi del dell'uomo come della donna perché lo stesso fico non solo richiama i tosticoli ma anche il seno e infatti il fico si contraddistingue per quel latte bianco che può certamente richiamare sia lo sperma che anche il latte materno e la mammella proprio quindi è pazzesco come veramente il fico sia proprio l'emblema dell'atto sessuale sia al maschile che al femminile quindi questa appunto è la mia riflessione ripeto non vuole avere nessuna pretesa però io chiaramente poi nel libro vado a spiegare quali sono questi nutrienti quali sono no cioè ripeto la mia la mia opinione è completamente irrilevante conta solamente quello che veramente può essere provato bene quindi se l'albero della conoscenza del bene e del male era il fico l'albero della vita eterna allora o è la vite o è l'olivo no quindi ne ho per esclusione può essere la vite beh diciamo che la vite sa il fatto suo nel senso che la vite è molto importante non a caso sia l'olio che il vino sono protagonisti della diciamo della della nostra religione anche dello stesso culto cristiano no ma non soltanto noi però diciamo che noi abbiamo una versione ormai artefatta astratta noi pensiamo che i simboli siano semplicemente delle astrazioni no mentre invece per gli antichi e insomma se studiassimo lo sapremo anche noi non parliamo soltanto di simbologia loro non erano importanti perché erano complementari con la nostra chimica quindi la loro erano divini perché erano donati dagli dèi erano state create dagli dèi e perché avevano delle proprietà sublimi che ci potevano dare una longevità incredibile questo vale anche per la vita ora non so di voi quanti conosceranno il paradosso francese il paradosso francese sostanzialmente forse lo sa la mia amica Veronica che è a Parigi che sicuramente ci sta guardando questa sera ma il paradosso francese sostanzialmente dice questo che loro pur mangiando male non se la vogliono non se la prendono male i francesi cioè avendo una dieta non mangiano male chiaramente i francesi mangiano bene ma la loro dieta è molto grassa no? anche perché la loro dieta non prevede l'olio quindi l'olio extravergine ma il burro che è un retaggio dei barbari laddove barbaro è inteso non come incivili ma come stranieri all'impero romano appunto il paradosso francese dice questo cioè che i francesi nonostante la loro dieta che è molto grassa ricca di proteine non hanno dei danni come si aspetterebbe insomma a loro danni biologici insomma malattie degenerazioni non so problemi al cuore piuttosto che tumore o altro perché tendenzialmente nella loro cultura consumare quotidianamente del vino rosso perché perché nel vino rosso è custodito è contenuto un antiossidante importantissimo un fenolo importantissimo che è il resveratrolo ecco che è un resveratrolo è un antiossidante che è contenuto nelle bucce dell'uva bene il resveratrolo è essenziale andiamo a definire però non semplicemente a limitarci a dire che è un antiossidante perché è importante perché il resveratrolo è essenziale per le ossa e arginarne inibirne l'osteoporosi che è uno dei più grandi problemi della vecchiaia quindi la fragilità delle ossa e la custodisce conserva i muscoli quindi anche qui la vecchiaia che cosa porta a una perdita di tonicità una perdita del tono muscolare il resveratrolo adesso per le per le missioni che ci saranno nello spazio magari qualcuna vera insomma la faranno anche lo inseriranno nella dieta degli astronauti quindi il se noi pensiamo che veramente gli Elohim gli Annunaki diciamo che insomma sorcavano i cieli chiaramente il resveratrolo era sicuramente un nutriente che doveva essere essenziale alla base della loro dieta ma il resveratrolo ha una particolarità cioè non viene metabolizzato facilmente dal corpo umano comunque ha bisogno di sostanze quali ad esempio la peperina che è contenuta nel pepe nero per essere assorbito e metabolizzato dal corpo e manco farlo apposta i greci e poi dopo in seguito i romani consumavano una bevanda che era il mulsum o ipocrasso che era base di vino rosso miele e pepe perché in genere il miele l'uso del miele è stato venduto come un dolcificante ma per chi ha creato tutte le cultivar dell'olivo per chi ha creato l'essere umano per chi ha creato gli animali per chi ha creato la vite creare una una variante no quindi simile all'ambrusco che quindi si presenta già dolce era un gioco da ragazzi qual era il ruolo del miele non era come dolcificante il fatto che sia stato utilizzato dopo come dolcificante è un altro discorso no per quale motivo era importante sia il miele che il pepe il pepe serviva per assimilare e rendere quindi biodisponibile il resveratrolo il miele serviva come gaviscon fondamentalmente cioè impedire che il pepe andasse ad infiammare la mucosa dello stomaco e quindi il miele serviva proprio per proteggere lo stomaco e quindi facilitare l'assorbimento del resveratrolo l'alcol invece essendo un vasodilatatore portava questo antiossidante ovunque quindi Gesù non aveva scelto il vino a caso no prima di tornare dal padre era veramente vino di vita non era una metafora era vino di vita perché conservava biologicamente il corpo ora facciamo uno step avanti perché fino adesso vai mi viene in mente anche l'ambrosia il nettare degli dei adesso e arriviamo appunto qui adesso arriviamo appunto non volevo fare spoiler ma visto che vedo che in chat tanti proveranno domani se se hai un'idea delle quantità ok niente andiamo avanti no a chi sta provando non fatelo a casa no scherzo sicuramente vi farà non può farvi male mettiamola così no però diciamo che manca un ingrediente andiamo a vedere qual è l'ingrediente anche quando poi tra l'altro vi dirò l'ingrediente non basta anche qui cioè allora innanzitutto dovrete comprare il libro perché noi facciamo questo solo per vendere libri ovviamente no scherzo devo mettere all'ironia perché se no conosco sì no dobbiamo trovare qualcosa no perché una palla di fieno qualcosa così no allarme no a dire il vero poi dopo chiuderò diciamo con un appello no veramente lo scopo è cercare di aprire degli orizzonti di ricerca quindi lo scopo di questo di questa intervista e di questo libro è veramente quello di aprire degli orizzonti infilarsi in un solco che non è stato creato dal sottoscritto ma da degli incredibili ricercatori che chiaramente non non sono sulle prime pagine dei giornali perché appunto hanno onorato il giuramento di Ipocrati quindi oggi purtroppo non è non è una cosa buona insomma no ebbene manca qualche cosa perché ok va bene tutti i discorsi salutistici no gli antiossidanti ma fondamentalmente la longevità di Adamo che era di 900 anni era qualche cosa di più di mangiare sano e pulito no già quindi che cosa può essere cosa può cosa può mancare andiamo a vedere sempre i greci e in particolare Omero Omero vedi tu mi hai appunto mi hai anticipato parlava dell' parla dell'olio nell'Iade parla non dell'Ambrosia ma dell'olio di Ambrosia nell'apocalisse di Mosè che è un apocrifo Adamo quando sta morendo manda il figlio a implorare il signore di dargli l'olio della vita ok bene quest'olio aveva delle caratteristiche molto particolari ci dicono ci dice Omero cioè quest'olio quest'olio viene chiamato olio di Ambrosia perché perché aveva il colore dell'Ambrosia dell'Ambra da lì appunto Ambrosia no cioè era dorato ora è vero non nel senso che sai che io ci devo mettere l'India in India è l'Amrita esatto però magari ne parleremo in un'altra puntata sembra essere una cosa diversa cioè sempre l'estratto di una pianta ma che aveva diciamo come funzione una delle caratteristiche uno dei effetti diciamo non effetti collaterali ma una delle proprietà di questa pianta era una sorta di stimolante ok fungeva da stimolante quindi era perfetto nel contesto militare perché appunto la persona doveva stare sul pezzo no e anche lì ho un'idea su quale potrebbe essere la pianta però erano piante certamente divine ma per per il motivo che ho spiegato insomma un verbo improprio però per dire che loro pensavano cioè sapevano che quelle piante erano state modellate dagli dèi e donate dagli dèi quindi divino in quel senso oltre poi per le proprietà divine a tutti i sensi no ebbene l'olio di ambrosia quindi di ambrosia perché appunto era dorato come l'ambra e era addirittura scintillante ebbene se noi andiamo a vedere l'olio d'oliva che viene chiamato l'oro del mediterraneo no eppure per quanto il richiamo all'oro insomma sia diciamo più spesso più volte insomma utilizzato comunque l'olio non è d'oro fondamentalmente sì ha comunque può avere delle tinte che richiamano il giallo per carità no però se andiamo a leggerci proprio le descrizioni lì si parla proprio di un oro che scintilla cioè si parla proprio di oro fondamentalmente ebbene se noi andiamo a vedere la ricetta dell'olio sacro quindi nella Bibbia perché appunto Yahweh dà una ricetta molto particolare con degli ingredienti con per esempio l'olio sacro quindi quello per le unzioni no contiene diverse spezie per esempio il cinnamomo la cannella ok la mirra vi ricordate l'oro incenso e mirra perché quelli erano ingredienti essenziali per ungere i sovrani e infatti non a caso i magi vanno da Gesù con quegli ingredienti non solo l'oro incenso e la mirra non sono i regali di Natale erano degli ingredienti che servivano per l'olio sacro perché Gesù doveva essere il re della Giudea e infatti come ha spiegato il ricercatore De Ange a cui faccio i complimenti perché veramente certe informazioni dovrebbero essere studiate anche a scuola insomma diciamo stando alle sue ricerche Gesù era il figlio della terza moglie di re Erode Maria Mariamne no e questo spiegherebbe il motivo per cui i magi vanno appunto da Erode credendo che fosse lui cioè che che Maria fosse incinta di Erode no e quindi chiaramente essendo Erode il re della Giudea chiaramente Gesù sarebbe stato il potenziale figlio cioè potenziale aspirante re no quindi e chiaramente però non essendo lui il padre insomma se la devono dare a gambe no in Egitto questo magari ci torneremo in un'altra puntata ma ebbene quindi quelli erano degli ingredienti essenziali che Yahweh stesso elenca per creare l'olio sacro bene consideriamo che la mirra è un antimicotico e ha il colore dorato pensiamo poi al fatto che e quindi già lì mescolare ah poi c'è la cannella quindi già prendere quindi l'olio e quindi extravergine la mirra la cannella già abbiamo una colorazione diciamo tendente al giallo no però non basta comunque diciamo che non basta no ecco noi sappiamo anche che un altro ingrediente era l'oro perché infatti a Gesù gli viene portato l'oro perché l'oro ha un ruolo molto fondamentale un ruolo viene citato anche appunto nella vicenda di Mosè quando si trova nel deserto quando il vitello d'oro viene appunto fatto polverizzare nell'acqua e ingurgitare agli israeliti già perché qui se noi andiamo a leggere quello che c'è scritto nell'antico testamento e anche a a studiare la cultura per esempio dei sumeri o degli egizi noi sappiamo che l'oro l'oro per l'oro l'oro mi pare che anche Nicola Bizzi abbia fatto anzi non mi pare Nicola Bizzi ha fatto delle puntate quando ha parlato dell'oro monatomico spiegava appunto come l'oro fosse un protagonista della cucina eppure noi sappiamo che l'oro non ha proprietà cioè non è un non ha nutrienti non è un un alimento no cioè quindi perché apro paretesi anche la puntata internazionale con Michael Tellinger ci racconta di come l'oro venisse usato anche addirittura per fare dei pani esattamente infatti è lì che volevo arrivare cioè l'oro sappiamo che veniva mangiato nonostante non fosse non sia un alimento per quale motivo? certamente non viene non veniva utilizzato come decorazione parliamo di persone che non erano filosofi come è il sottoscritto comunque io sono un aspirante filosofo erano molto pragmatiche quindi non se l'oro mangiavano l'oro ok chiaramente non tutti no era solo riservato ad alcuni no ci doveva essere un motivo molto particolare ebbene quindi ma quale può essere quindi questo motivo noi sappiamo che l'oro comunque è un metallo e un metallo non è biodisponibile per il corpo quindi praticamente sarebbe un proiettile dentro la nostra biologia no e quindi qual è la come è la storia ecco qui subentrano alcuni protocolli di ricerca contro il cancro hanno scoperto io nel libro poi parlerò chiaramente dei nomi e cognomi quindi nessuna teoria astratta di due professori italiani che chiaramente sono sempre italiani no oggi a dare un calcio al mondo e alla storia poi lo ricevono poi il calcio c'è in particolare questo ricercatore che ha scoperto che l'oro se bombardato di radiazioni infrarosse si comporta in un certo modo hanno provato a inoculare dentro un vitello quindi endovena delle nanoparticelle d'oro dopo che erano state bombardate da queste radiazioni infrarosse e queste nanoparticelle d'oro sono andate si sono concentrate su quelle cellule cancerose che erano purtroppo dentro insomma questo vitello e sono andate a distruggerle e sono state smaltite quindi non sono rimaste a generare stati infiammatori latenti nel nel corpo del vitello ma sono state poi smaltite dal dal metabolismo insomma dal corpo del vitello ecco e qui arriviamo appunto nel cuore della questione immaginiamo e qua facciamo un ragionamento veramente qua siamo proprio nel fare finta che una delle componenti essenziali dell'olio di ambrosia fosse l'oro ma di che tipo perché non basta l'architettura molecolare è fondamentale non basta semplicemente aver trovato l'oro ma bisogna anche capire qual è l'architettura molecolare corretta quindi se è monatomico diatomico eccetera questi esperimenti li ha fatto un altro ricercatore italiano che avevano capito hanno capito le proprietà incredibili dell'oro dal punto di vista medico dal punto di vista curativo perché appunto l'oro e anche altri metalli quali ad esempio il platino che infatti nella tavola periodica è subito attaccato all'oro cioè le loro proprietà oncosoppressive in quindi capacità oncosoppressive quindi vuol dire che vanno a queste particelle queste nanoparticelle insomma d'oro o per esempio anche di platino vanno a distruggere a bruciare letteralmente le cellule cancerogene c'è un problema c'è un bellissimo problema cioè il fatto che negli anni sessanta per esempio il platino è stato studiato proprio e tutt'oggi viene utilizzato il cisplatino è un chemioterapico che chiaramente ha una funzione oncosoppressiva ma c'è un piccolo particolare che va a velenare appunto il corpo fegato e reni e quindi è a sua volta una sostanza cancerogena quindi proprio perché non riesce a essere smaltito dal corpo e quindi va a velenare il corpo stesso e quindi inutile dire l'epilogo ecco anche l'oro l'oro ha delle proprietà quindi oncosoppressive il problema è che al contrario del platino non si lega con il DNA non ha questa inclinazione a legarsi con la molecola del DNA mentre invece il platino si lega così bene che la sfalda ripeto queste non sono mie teorie nel libro parlo appunto proprio di quali sono questi protocolli di ricerca cito le fonti quindi ognuno può andarle a verificare quindi sì l'oro può essere utilizzato per diciamo alcune alcune patologie però non legandosi bene al DNA hanno provato a fare diversi esperimenti quindi con architetture molecolari diverse quindi non riesce a esplicare le proprie proprietà quindi questo è fondamentalmente il problema l'oro non si lega nemmeno anche nella forma monoatomica non si lega comunque bene non abbastanza cioè diciamo che le proprietà potenziali sono incredibili ma non abbastanza da fare fondamentalmente la differenza se questi metalli alla fine non vengono smaltiti ripeto come ha spiegato Montanari che è un grandissimo nanopatologo insomma questi metalli cosa succede vanno appunto ad avvelenare il corpo generano gli stati infiammatori questi gli stati infiammatori possono degenerare purtroppo in poi dopo i tumori quindi questa non è una teoria proprio non di coscienza perché quella la lasciamo all'ex ministro della salute ma va bene quindi ecco noi però incrociando i dati con quell'altra ricerca sappiamo che quando queste vengono irrorate di questa radiazione infrarossa e beh l'oro si comporta in una maniera diversa e quindi sembra sulla base di quella ricerca lì appunto risolvere il problema dei proiettili quindi viene poi smaltita bene diciamo che sulle radiazioni infrarosse sulle nanoparticelle d'oro gli antichi erano molto più ferrati di noi finti moderni e quindi adesso qua dovremo fare un mi rendo conto che insomma anche se era ma faremo un piccolo viaggio lo facciamo insieme e comincerei dal far vedere appunto la un'immagine vecchia che avevo già fatto vedere condiviso durante la puntata di Superel che è un cartiglio egizio e mesbet è quello della tiara a forma che che io ho associato appunto a un pannello fotovoltaico se riesci a pescarlo tra no questo no è quell'altro dopo lo vediamo questo questo qui esatto bene questo qua faccio un ripasso veloce se noi vediamo noi abbiamo qui il dio Amon Amon Ra e ha in testa una tiara che ha praticamente diciamo delle ceselle colorate con il rosso il verde e il blu che io ho ipotizzato si riferisse ai colori dello spettro solare questa tiara ha un una specie di tubo di cavo che esce e che poi sembra collegarsi a il cosiddetto trono su cui è seduto Amon e che ha degli strani scompartimenti interni no ebbene io ho pensato che quindi questa tiara abbastanza insolita possa essere un pannello fotovoltaico perché ricorda innanzitutto nelle cesellature il fotovoltaico stiamo parlando del dio sole perché le cesellature hanno i stessi colori dello spettro luminoso e perché quella su cui è seduto il trono su cui è seduto non ha uno schienale sembra essere tutti gli effetti una batteria e infatti in altre immagini perché poi andate a cercare su google Amon Ra troverete proprio l'immagine di un'anfora che sembra appunto indicare proprio un recipiente no e poi piccolo particolare quel blu di cui quel blu che contraddistingue la pelle di Amon Ra è il primo pigmento sintetico della storia cioè è stato ottenuto dal riscaldamento dentro una fornace a più di 800 gradi con cristalli di silicio malachite quindi con dentro del rame e altri appunto minerali e ha una caratteristica molto particolare se colpita da radiazioni luminose quindi dalla luce solare emette una radiazione infrarossa questa proprietà lo rende manco a dirlo perfetta nel contesto del fotovoltaico adesso chiedo a Mesbet di mandare di far vedere un'altra immagine che è quella dei raggi così io e lui ci intendiamo il nostro gergo che è quella dei raggi adesso ci arriviamo te la metto giuro che te la metto Gianluca quella con le freccine esatto quella con le freccine ah vabbè devo anche chiamarla quella delle freccine dai perché perché in questa immagine si vede che chiaramente esatto che non ho avuto un abbaglio in tutti i sensi perché vedete noi troviamo qui gli stessi colori rosso blu e verde abbiamo sempre il nostro dio del sole con la pelle blu e questi raggi che vanno verso questo disco solare ora io ripeto sono completamente un'autodidatta ma questi qua ragazzi se non sono dei raggi questi non so che cosa possono essere no ebbene se voi vedete questi raggi vanno verso quel disco solare ma il colore che risalta su tutti è il rosso noi sappiamo che la luce solare quindi ha uno spettro che è costruita costituita scusatemi da diverse radiazioni no tra cui la radiazione infrarossa manco a dirlo la radiazione infrarossa è proprio quella che i nostri fotovoltaici moderni si perdono ed è il motivo per cui sono poco efficienti ora il cosa serve tutto questo discorso a mio modo di vedere secondo la mia spiegazione che cosa facevano perché gli dei avevano la pelle blu non solo appunto gli dei egiziani no ma anche i deva che appunto venivano chiamati anche i luminosi se riesci a mandare l'immagine di quella di Vishnu dovrebbe essere e ma vuol dire proprio esseri di luce esseri di luce esatto e così facciamo contento Gianluca secondo me loro cosa facevano loro si cospargevano di olio considerate che stando alle descrizioni gli dei avevano un fenotipo nordico quindi pelle molto chiara ok quindi a una luce solare forte come quella del Medio Oriente insomma si sarebbero esposti tantissimo considerate che una delle principali cause dell'invecchiamento sono proprio i radicali liberi quindi a noi il sole ci dà la vita ma ci fa anche morire fondamentalmente no perché appunto poi il DNA si danneggia e viene replicato l'errore questo è l'invecchiamento detto di Sordoni loro che cosa facevano secondo me noi sappiamo che l'olio di ambrosia era sia un alimento ma anche un unguento che infatti viene utilizzato su Achille esatto anche qui è blu e luminoso loro probabilmente utilizzavano l'olio che conteneva tra l'altro l'olio l'olio extravergine ha delle proprietà molto importanti che proteggono la pelle dai tumori quindi anche le persone che fanno la radioterapia per esempio sulla parte che è stata errorata da delle radiazioni mettendo dell'olio d'oliva va a lenire la pelle va a evitare la possibilità di formazioni a inibire la formazione di possibili melanomi quindi l'olio cosa serviva per proteggere la loro pelle ok che era sappiamo di tipo nordico quindi avevano erano diciamo molto vicini ad essere albini e teoria mia questa ripeto è una fantasia mia chiamiamola così loro a quest'olio avevano aggiunto questo pigmento sintetico non è la prima volta anche perché noi sappiamo che gli egizi anche i sumeri utilizzavano cosmetici la cui base era un olio tra cui l'olio extravergine d'oliva che era quello più 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 importante più prezioso se no poi venivano utilizzati altri oli tipo quello di baleno o quello di ricino esatto quindi andava forte anche a quell'epoca e con dei cristalli con dei minerali qual è ad esempio il natron ecco secondo me invece la mistura che loro utilizzavano era una base di olio extravergine d'oliva di oro di oro colloidale chiaramente e di questo pigmento sintetico blu perché cosa faceva questo pigmento sintetico blu nel momento in cui loro si esponevano alla luce del sole il questo pigmento sintetico blu emetteva radiazioni infrarosse che andavano a loro volta ad attivare le nanoparticelle d'oro e queste nanoparticelle d'oro cariche di questa radiazione infrarossa venivano assorbite dalla pelle attraverso che cosa l'olio extravergine e quindi questo andava potenzialmente sarebbe andato a preservare la pelle e anche a farla ringiovanire oggi infatti i cosmetici di ultima generazione utilizzano proprio l'oro per queste sue capacità per andare proprio a ripristinare il collagene e quindi ripeto non è fantasia mia quindi fantasia fino a un certo punto questo valeva quindi sia esternamente esattamente come è stato utilizzato per Achille no sia internamente perché noi sappiamo che l'ambrosia non solo era un olio che veniva utilizzato per per l'esterno ma era anche un alimento e come facevano ad attivare l'oro contenuto in questi pani celesti no in questi pani come facevano riscaldandolo ad alte temperature perché noi da quello che c'è scritto nell'antico testamento sappiamo che quel famoso pane con la cosiddetta manna che profumava d'olio questa è la terminologia viene scritto proprio che profumava d'olio quindi noi sappiamo che quel pane conteneva farina d'oro no e l'olio quindi che cosa vuol dire che quando quel pane veniva riscaldato ad altissime temperature appunto il l'oro l'anoparticelle d'oro si ricaricavano e rilasciavano appunto quel scusate quella radiazione e che attraverso l'olio diventava biodisponibile quindi veniva assimilata dal corpo già perché una delle caratteristiche dell'olio e dell'olio extravergine è proprio quella di facilitare l'assorbimento di diversi nutrienti e qua adesso ti chiedo Gianluca Mesbet di mettere l'immagine dell'olio e del latte e della donna esattamente perché questa immagine perché l'olio extravergine d'oliva voi dovete sapere che è l'alimento e la cosa più simile che c'è in natura al latte materno perché perché hanno lo stesso rapporto di acidi di omega 3 e omega 6 quindi praticamente l'olio extravergine d'oliva è un surrogato del latte materno e qua arriviamo ad Ercole e voi direte che cosa c'entra Ercole ve lo spiego subito noi sappiamo che certamente gli dèi avevano una vita lunghissima ma che questa vita poteva essere conferita anche agli uomini Ercole è per esempio uno di questi Ercole poco prima di morire si stava per suicidare fondamentalmente in questa pira perché era stato avvelenato insomma a tradimento viene sottratto da Zeus che non poteva accettare che il suo figlio il figlio prediletto morisse e la prima cosa che che fa Zeus è accoppiare Ercole con la coppiera degli dèi Ibe ossia quella che dava l'Ambrosia agli dèi cioè fondamentalmente era la la responsabile delle cucine degli dèi cioè quella che dava l'Ambrosia quella che dava l'immortalità agli dèi cioè il cibo il cibo divino quello che quel cibo che conferiva quindi l'immortalità agli dèi infatti Ercole nel momento in cui mangia la mensa degli dèi mangia il cibo degli dèi diventa divino cioè non muore quindi da questo noi sappiamo che appunto l'immortalità poteva essere conferita come attraverso un alimento ok quindi cioè perché dobbiamo inventarci un'altra possiamo parlare di mito se tutto il resto abbiamo visto che ha una corrispondenza oggettiva il nettare degli dèi esattamente quindi il nettare e l'ambrosia degli dèi il bene questa noi sappiamo che Ercole già quando era piccolo aveva avuto rispetto al fratello gemello Ificle un trattamento un po' diverso rispetto a Ificle perché Ercole è stato allattato da una dea da era la moglie di Zeus e già perché il latte abbiamo detto che è la cosa è molto simile all'olio extravergine e qual è la caratteristica del latte materno veicola i nutrienti oltre agli anticorpi ok della madre che trasmette al figlio trasmette anche i nutrienti quindi è il motivo per cui se la mamma mangia i peperoni il bambino avrà statene certi avrà qualche colica no perché si becca la peperonata della madre no e viceversa se la madre si inocula con sostanze nocive se le beccherà purtroppo anche il figlio e ogni riferimento non è casuale viceversa se la madre mangia assume un alimento di vino quindi con caratteristiche particolari attraverso il latte la trasmetterà al figlio noi sappiamo che Ercole era gemello di Ificle quindi biologicamente i due ragazzi erano simili era la cosa più simile all'altro erano gemelli no ma uno diventa Ercole l'altro uno sfigato fondamentalmente in realtà non è vero anche Ificle era forte però chiaramente era il fratello di Maradona e quindi gestamente era no viveva all'ombra del fratello no però qual è cos'è che ha fatto la differenza tra Ificle ed Eracle probabilmente il fatto che il bambino sia stato svezzato con latte di vino quindi con nutrienti di vini ok poi Eracle quindi che è stato svezzato con il latte di vino è vissuto tra gli uomini e certamente era ancora un figo numero uno forte era gigantesco due metri quaranta si dice più di due metri e mezzo e da lì anche la sua forza però diciamo che certamente l'essere stato svezzato con del latte di una dea quindi che mangiava il cibo speciale tra virgolette degli dei può certamente essere uno dei candidati una delle cause per cui è cresciuto diversamente rispetto a Ificle e nel momento in cui poi Ercole è stato infatti tratto da Zeus e assoldato nell'Olimpo come un pari come un dio pari chiaramente è diventato anche lui eterno per il semplice motivo che ha mangiato cibo speciale tra virgolette no quindi noi sappiamo che che l'olio dentro l'olio forse ci sono delle molecole e qua è appunto la mia teoria che possano fare da ponte tra la nostra biologia e l'oro l'oro o altri metalli con proprietà simili quali ad esempio il platino quindi io spero veramente che qualcuno di voi perché su migliaia di visualizzazioni ci saranno dottori ci sarà un biologo ci sarà qualcuno qualcuno che conosce un dottore un biologo o chi per esso no che legga queste informazioni e che o le stronchi o le sviluppi questo è l'ospicio perché a me io non mi interessa avere ragione non me ne frega io cerco di collegare delle cose delle cose che diciamo sembrano ponderate poi chiaramente non tutto ciò che è logico è vero no ma tutto ciò che è vero non può non essere logico questo è il punto e diciamo che gli antichi dimostravano di saperne un casino sulle piante e su e sui metalli se noi andiamo a vedere infatti il l'epopea di Gilgamesh il giardino di Shamash Apollo diciamo il dio sole era infatti una commissione tra piante e pietre luminose e anche qui ritorniamo alla nomenclatura dell'albero della vita perché sull'albero della vita si è le hanno raccontate di tutti i tipi ma hanno ovviamente ha vinto per la maggior parte l'interpretazione simbolica no e io penso di aver identificato tre significati dell'albero della vita cioè è stato utilizzato con è stato utilizzato diciamo con con intenti diversi in base al contesto abbiamo l'albero della vita secondo me è intesa proprio come pianta quindi con un frutto quindi commestibile che da la cui si ottiene l'olio della vita di cui si parla appunto nell'Apocalisse di Mosè abbiamo l'albero della vita inteso forse proprio come emblema del DNA ok dopo tutto non parliamo forse di albero genealogico no ecco il nostro DNA contiene tutto il nostro albero genealogico tutto il nostro retaggio e quindi certamente può essere significato e poi l'albero della vita come fonte di di illuminazione e qua adesso io chiamo prima quella sui led per intenderci con Mesbet quello egizio però ecco allora innanzitutto questa immagine mi è stata fornita dal grandissimo ricercatore Luca Zampi lo ringrazio nuovamente perché questo è un sarcofago all'interno non so se riuscite a vedere bene ci sono tantissimi esagoni rossi vi ricordate vi ricordate prima il discorso che avevo fatto sul pigmento sintetico e e quindi sul su come la luce solare potesse attivare questo pigmento ed emettere radiazioni infrarosse che a loro volta avrebbero caricato le nanoparticelle d'oro ecco gli egizi erano celebri per i bagni di elioterapia per l'elioterapia per l'elioterapia in quanto aveva proprio doveva avere una funzione ringiovanente tra virgolette bene quindi abbiamo visto come la loro conoscevano benissimo le le radiazioni infrarosse e le loro le loro proprietà come potessero essere sfruttate e qui questa è un'immagine che a mio modo di vedere sembra mostrare in tutto e per tutto proprio quelli che mi sembrano tutti gli effetti dei led guardate anche la struttura esagonale che non è a caso perché gli angoli di 120 gradi di ogni esagono sono funzionali a dare stabilità alla struttura infatti oggi noi costruiamo anche batteria nido d'ape proprio perché si rendono perfetti per questo ma guardate il colore era rosso con dentro addirittura in ciascuno un puntino bianco che a mio modo di vedere sembra un punto luce tra l'altro in alto vedete che c'è il disco solare rosso quindi quella è secondo me una radiazione infrarossa chiaramente se non avessimo visto i due geroglifici prima dove c'era quello che sembrava un pannello fotovoltaico e quello addirittura con i raggi sembreremmo no sembrerebbe un'assurdità adesso chiedo a Mesbet di caricare quella di una lampada led moderna di una lampada di una lampada di una lampada di una lampada moderna che potrete vedere ripropone la stessa struttura nino d'ape e e che secondo me spero che tu ce l'abbia fatta nel frattempo però se no la 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 faremo vedere la faremo vedere poi dopo con un comunque certamente nel libro c'è perché è praticamente uguale quindi eh probabilmente diciamo non è da escludere il fatto che loro conoscessero le proprietà di alcune della radiazione quindi già conoscere anche ragazzi lo spettro luminoso lo spettro solare cioè qua parliamo di studi di ottica no quindi cose che sono venute fuori con Newton e quindi non Newton è nato nel 1642 quindi cioè è abbastanza è abbastanza emblematico no comunque sia eh questo fa capire come eh loro avevano delle delle conoscenze che non possono essere eh come dire eh sono a dire cadute dal cielo ma non non possono essere soltanto mito e fantasia pura fantasia va bene eh detto ciò eh il quello che mi preme quello che mi preme eh sottolineare questa sera è cercare spero di essere riuscito aver fatto luce in tutti i sensi proprio su la complementarità della chimica del di queste piante nella fattispecie eh la l'olivo con con appunto la la chimica del corpo del corpo umano se non capiamo questa complementarità non non riusciamo anche a capire alcuni eventi purtroppo della nostra della nostra contemporaneità e mi riferisco mi riferisco al alla piaga mi riferisco alla piaga degli olivi ossia la cosiddetta xylella che ha una storia molto simile che non faticherete insomma riconoscere considerate che la Puglia eh prima di questa infezione la xylella è un batterio eh costituiva quindi solo solo la Puglia costituiva il 12% del mercato mondiale di tutto l'olio extravergine eh bene eh ma che cosa è successo a un certo punto questi alberi hanno cominciato a disseccarsi e l'idea geniale ce l'ha nel 2013 un ricercatore dell'università di Bari nell'imputare questa causa di questo disseccamento a questo batterio eh questo questo batterio che è appunto la xylella e che a dire il vero insomma lascia alquante perplessità perché innanzitutto per riconoscere che la pianta infetta ci vuole un test molecolare mi dice niente? poi ci sono alcune piante che hanno questo batterio ma non muoiono quindi diciamo che la causa del dissecamento non è non è non è affatto una cosa eh oggettiva no? alcune piante in cui c'è questo batterio sono in effetti si sono in effetti disseccate altre invece ci convivono tranquillamente anche perché questo batterio comunque non è un'invenzione moderna anche se in effetti c'è una società che si chiama Allelix ok se già se Gianluca riesce a mandare la foto così la gente non pensa che sia una teoria complottista no? perché esiste una società che si chiama Allelix quindi è il contrario di Xylella comprata poi rilevata da Monsanto che ha modificato geneticamente questo batterio questo agli inizi dell'anno 2000 degli anni 2000 ok e siamo dall'altra parte del mondo quindi in Brasile a un certo punto lo ritroviamo ce lo ritroviamo in Puglia la Puglia in particolare il Salento è quella che è stata più affetta diciamo non dal batterio ma dal disseccamento no? poi chiaramente insomma metà considerate che parliamo per dare dei numeri c'erano più di 60 milioni di olivi 60 milioni vi dice qualche cosa 60 milioni di italiani quindi sembra proprio l'ironia proprio della sorte già perché prima di attaccare noi sono stati attaccati gli olivi quindi noi non abbiamo fatto un cazzo per tutelare gli olivi perché non ne sappiamo nulla e quindi il tu e poi successivamente è toccato a noi no? ma quale può essere una delle cause più probabili oltre a questo batterio che sembra essere il dito e non la luna no? cioè i trattamenti cioè i olivi hanno bisogno di cure molto particolari e soprattutto il fatto che non fornire quelle cure ma per quale motivo? perché? perché i contadini per esempio devono sottostare a delle logiche di mercato che li porta a depreciare l'olio e quindi molte volte non vale nemmeno la pena riraccogliere le olive quindi questa è certamente una delle concause importanti ma soprattutto l'utilizzo di determinati prodotti che i chimici che avvelenano il terreno queste sono le vere cause molto probabilmente sono le vere cause del del cancro degli olivi no? cioè prodotti chimici inadeguati tossici ok? e una non cura determinata dal fatto un'incoltura determinata dal fatto che costa tantissimo per un olio l'olio che voi avete a casa molto probabilmente è spazzatura sotto i 12 euro al litro quell'olio lì è una cosa rettificata che non è non è olio extravergine per sapere che l'olio è extravergine devi pizzicare in gola se non pizzica in gola non ci sono principi attivi è morto quell'olio è soltanto del grasso e basta non è un non è un qualche cosa non è un farmaco ecco quindi questa molto probabilmente è la causa della vera peste degli olivi e e appunto le assonanze con con il con con quel virus lì sono cioè la metodologia no quindi il cavallo di troia che abbiamo visto no abbiamo riscoperto nel del 2020 era già stato tentato proprio con una pianta che è addirittura un farmaco quindi è stato prima il turno degli olivi e poi è stato il nostro turno questo per quindi a maggior ragione quindi la storia dell'olivo e del genere umano sono intrecciate non solo agli albori della nostra civiltà ma anche adesso che siamo al crepuscolo questo questo diciamo il tema che tenevo appunto moltissimo a condividere con voi purtroppo ripeto ho dovuto fare una sintesi io non sono bravissimo neanche tra l'altro con le sintesi motivo per cui scrivo tanti libri e perché ripeto l'argomento è immenso quel che è certo è che non ci hanno raccontato stronzate gli antichi qua parliamo di di piante che non potevano essere state selezionate artificialmente perché non stiamo parlando della carota dove hanno per fare un omaggio agli orange hanno scelto le carote un po' più arancioni fino a quando non hanno ottenuto non hanno ottenuto la carota arancione dopo diverse generazioni l'olivo appunto non potevano fare questi esperimenti con l'olivo non potevano farli con la vite questi hanno piantato dei semi già belli che pronti e e soprattutto avevano delle incredibili conoscenze non solo nel contesto della botanica ok pensiamo tra l'altro che un oleastro e un olea europea hanno migliaia di geni di differenza quindi ma avevano delle incredibili competenze di metallurgia eh chiudo con un'ultima suggestione questa sì è veramente una suggestione dovete perdonarmi se se magari mi sono lasciato prendere forse dalla fantasia però diciamo era per un buon fine eh certamente voi conoscerete il il mito delle delle parche delle moire perché la vita eh degli esseri umani no il filo della loro la vita degli esseri umani era un filo in mano a queste eh a queste figure leggendarie no che poi dopo decidevano di tagliarlo no quindi quando la nostra ora era compiuta bene oggi noi sappiamo che in effetti la longevità la nostra longevità è determinata dalla lunghezza dei telomeri che sono appunto i dei filamenti eh della nostra molecola eh del DNA e la la cui lunghezza determina appunto la la quanto viveremo no quindi non si può scherzare non si può scherzare cioè questi mi sembra che forse parlavano veramente come mangiavano no ebbene noi oggi eh eh Mesbet ti chiedo se riesci a mandare l'immagine della CRISPR dal 2013 è stato inventato una che è quella dove si vede eh quel frammento di DNA esatto noi oggi eh abbiamo eh una tecnica tagli e cuci che permette insomma attraverso l'utilizzo di una proteina eh contenuta in un batterio eh attraverso questa proteina noi riusciamo a intervenire sul DNA tagliandone proprio alcuni pezzi e inserendone altri forse che le moire che erano in origine erano soltanto una era una dea no poi dopo sono state e sono sono diventate tre era una sorta di dea della nascita della vita della vita scusate no eh una biologa forse che loro appunto non avevano deciso la lunghezza del fato del del filo della vita degli uomini proprio con una tecnologia di questo tipo cioè perché alla fine è questo che ci viene detto no che agli uomini eh gli uomini si distinguono dagli dei per la longevità loro hanno una vita più breve perché così possono essere eh più controllabili no così non sono simili agli dei quindi loro molto probabilmente ci hanno fatti con una vita hanno accorciato il nostro orologio biologico tagliando proprio il filo no non è mito oggi è scienza non quella che ci ha fatto mettere dei fetici di stoffa come siamo andati in giro come degli scolapasta con degli scolapasta per schermarci da virus e batteri no quella era questa è scienza per davvero insomma per i medici veri per i ricercatori veri e forse veramente il mito delle delle moire delle parche che quindi tagliavano il filo della vita degli uomini che avevano assegnato loro il fato è proprio questa cosa qui no questa del tai e cuci questa tecnica appunto di ingegneria genetica che viene chiamata CRISPR e che utilizza proprio questo questa proteina in un batterio per andare a intervenire e a fare un collage e che purtroppo sembra essere stato utilizzato per creare delle chimere no chimere che forse sono state create proprio tanto nell'antichità quanto oggi appunto quindi chimere come il nostro ex ministro della salute che spero non mi sembra proprio no un parto della selezione naturale e ragazzi io ho finito la voce spero veramente di avervi non lo so spero vi sia piaciuta la puntata ho dovuto tagliare quindi apprezzate il fatto che ho cercato di fare un lavoro di sintesi anche se non sono forte nelle sintesi e e niente che dire nel libro cercamente ho approfondito più nel dettaglio non volevo essere poi troppo tecnico volevo che insomma dare a tutti gli strumenti concettuali per poter guardare oltre il vero del mito con uno sguardo non dico scientifico ma quantomeno filosofico allora vediamo un po' di domande assieme all'alba dell'ora è 45 1200 persone sono rimaste fino alla fine e io suggerisco di ascoltare più e più volte questa puntata perché ci sono delle chicche nelle chicche quindi per apprezzarne al 100% spunti di riflessione e di ricerca oltre al fatto che c'è proprio anche un momento nella Bibbia in cui gli Elohim si stufano e dicono ora l'uomo taratemelo a 120 anni esatto perché ha rotto le scatole e quindi non infatti Gilgamesh è proprio esattamente la vita di Gilgamesh se no a lui 120 è proprio la durata poi del del suo regno se non ricordo male e tutto ciò abbiamo detto più volte come in realtà quel 120 lì sia stato ulteriormente abbassato quindi prima una modifica genetica fra l'altro in diversi miti anche sumeri si racconta di come sia una dea femminile io la chiamo dea ma per capirci preposta proprio alla genetica quindi colei che aveva questi compiti un po' all'avatar in cui c'era la scienziata che andava a occuparsi di determinate cose ecco oltre a questo intervento genetico c'è poi tutta una serie di introduzioni successive che hanno ulteriormente abbassato perché la domanda è ma allora noi potremmo vivere 120 anni c'è anche chi ci ha fatto le diete per vivere 120 anni sono presa la vita ma come potete capire in realtà la media è 80 anni circa per i comuni mortali 90 vicino al secolo per determinate linee di sangue per determinate famiglie o chi vive in determinati posti fra l'altro anche in area del Mediterraneo in area del Giappone ci sono tutta una serie di posti in cui la longevità riesce a essere meno ingannata ma se tu giustamente parlavi di farmaci a parte il fatto che secondo me siamo vicini al 90% di quello che era veramente il cibo degli dèi in qualcosa che ci è stato in parte tolto un po' per ignoranza ma un po' perché probabilmente un elemento manca Davide secondo me ci sei veramente vicino e per il bene dell'umanità 1200 persone a noi sembrano tante ma dovrebbero essere un milione e duecentomila persone che ascoltano questi tuoi spunti perché qui siamo altro che filosofia qui siamo al centro del tutto ci sono determinate persone che non fanno altro che cercare come ingannare il tempo avere più tempo la risorsa più preziosa è il tempo il denaro non esiste questa non è retorica non è filosofia ma se andiamo a vedere poi a tutto ciò che sono gli OGM sono le abitudini alimentari la luce del sole che non è quella originale anche lì lo abbiamo detto in altre parti anche alla luce stessa manca una certa frequenza un certo spettro solare l'abbiamo collegato anche a lanterna verde lo abbiamo collegato a determinati tipi le aurore boreali quindi manca nello spettro solare manca in quello che mangiamo in tutte le abitudini non fosse per le industrie farmaceutiche che vogliono creare dei tossicodipendenti che sono tutt'altro che sani in realtà le persone l'uomo medio del 2022 a dispetto di quello che si legge nei libri non fosse anche solo per le pillole della pressione regolamentare il diabete e proprio elementi basici la vita media la qualità della vita media è decisamente più bassa di quello che si possa pensare quindi fateci caso hanno abbassato praticamente della metà quindi oltre i 120 come se questi fossero ancora lì e dicono ma sai che comunque taramelo ancora di una metà e quindi si riesce a essere 40, 50, 60 se aiutati se curati per la maggior parte delle persone non è così si torna in epoche in cui a 30 anni si era anziani che arrivava a 30 anni era anziano e per cui c'è proprio una sorta di medioevo della razza umana che meno vivono più sono controllabili e più gli si impegna il tempo più gli si fa sprecare tempo con bisogni indotti con una schiavitù che possa essere in qualche modo collegata a catene che non esistono che non vedi ma che sono molto più reali di quello che si possa pensare così come il film In Time che ci suggeriscono ma se tu passi il 90% del tuo tempo a lavorare per il denaro che non esiste tu non potrai mai per l'uomo comune entrare in contatto con quello che raccontiamo qui in quanto sia concreto perché poi è tutto scritto basta osservare basta leggere basta unire i puntini è lì l'ironia della sorte è che è tutto lì ma la gente non vede il chiodo nel muro di Malanga dopo che vi si fa notare che in una parete c'è un muro in un muro c'è un chiodo non potrete fare a meno di vederlo subito ma dopo che lo avete notato la prima volta è tutto lì sai poi non posso utilizzare la parola parleremo di sieri benedetti no diciamo che da quel poco che sta emergendo è chiaro come i metalli utilizzati come cipienti abbiano un ruolo come ponte quindi sul DNA cioè nel senso possono essere stati utilizzati proprio per modificare il DNA e quindi farlo purtroppo non sappiamo con che cosa no cioè però da quello che sembra gli antichi invece sapevano utilizzare i metalli avevano delle conoscenze di botanica e di metallurgia quindi conoscevano tutte le proprietà dei metalli e le sapevano sfruttare benissimo noi lo stiamo scoprendo adesso e anche quello delle piante e secondo me ci sono l'olivo contiene delle molecole che possono fungere da ponte magari ce ne sono anche altre di piante che contengono appunto queste molecole che possono fare da da legame proprio tra il nostro corpo quindi che permettano a certi principi di essere biodisponibili per il nostro corpo pensate anche al ferro il ferro è importante nel nel nostro corpo per tutti i processi aerobici però chiaramente deve essere in una certa architettura molecolare no quindi perché sennò è un proiettile quindi se non hai ferro sei anemico e quindi l'ossigeno non arriva insomma c'è una carenza di ossigeno che non arriva quindi alle cellule e quindi ti vai a spegnere piano piano no quindi l'inferro per esempio è l'esempio classico di quanto sia essenziale nel corpo quindi un metallo no ebbene magari può essere anche per l'oro ma l'oro così non basta cioè non basta dire l'oro ci vuole la giusta architettura molecolare no prima parlavamo di FE2 ma l'oro boh non lo so certamente non guardare i telegiornali ti allunga la vita a prescindere questo è l'olio extravergine d'oliva è un farmaco a prescindere e che quindi è anche un antinfiammatorio aggiungo non come il paracetamolo speranza che non è un antinfiammatorio e e quindi fa bene a prescindere quindi loro sapevano un sacco di cose e secondo me questa è la strada da avarca da attraversare no e anche il fatto quindi il problema è che l'albero della vita può essere anche interpretato in senso allegorico perché poi dopo c'è tutto il discorso della Sefirot della cabala ebraica ed è una cosa però anche lì restiamo a quello che avevano detto gli antichi e non a tutta la tradizione che è venuta successivamente no il fatto che secondo me veramente l'albero della vita era una pianta in tutti i sensi effettiva fisica come abbiamo visto il fico come abbiamo visto la stessa vite no c'erano delle piante e e che erano funzionali per la nostra erano perfettamente complementari tra l'altro gli dei erano a carenze di donne no e noi abbiamo visto che guarda caso l'olio extravergine è il perfetto surrogato del latte materno cioè ragazzi sono troppe le cose che che saltano all'occhio no e noi non possiamo anche sull'albero della vita tra l'altro inteso come fonte di illuminazione noi prima abbiamo parlato di serra di serra Mesbet scusami se riesci a mandare quell'immagine della serra che è con la luce viola esatto guardate questi questi lampioni come li chiamereste voi se foste delle dico delle persone ignoranti fa ridere no ma se fosse degli uomini primitivi tra virgolette no abbiamo un fusto esattamente come l'albero no con le delle radici che sono appunto i piedi del 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 lampione fondamentalmente e poi dopo l'energia la vita no una fonte di luce infatti noi parliamo di molti alberi che sono proprio c'era quest'albero babilonese che era sacro per i babilonesi che era luminoso era luminoso era e quindi come la chiamare se mi trovi l'albero sacro di avatar però era luminoso in tutti i sensi no e guarda caso infatti addirittura nell'epopea di Gilgamesh si parla di quest'albero della vita che era luminoso e che intorno c'era oro e cremisi cremisi e il viola infatti le luci ultraviolette sono viola perché se quelle erano delle serre in cui maturavano delle piante no chiaramente la luce ultravioletta serviva quindi noi questi qua utilizzavano radiazioni infrarosse ultraviolette sapevano benissimo cioè avevano delle conoscenze incredibili ti voglio chiamare un'ultima immagine Mesbet e poi ti ringrazio perché oggi ti ho fatto fare i straordinari della coppa di Licurgo che è del IV secolo ecco questa è romana del IV secolo quindi è roba recente bene questa coppa ha una particolarità è costituita da un vetro dioico che ha una caratteristica molto particolare è rivestita da nanoparticelle d'oro quindi cosa succede che quando questa coppa viene irrorata di raggi solari appunto assume delle tinte in base a dove viene colpita se voi dovete guarda veramente non vi chiedo di comprare il mio libro non me ne frega niente andate su google e scrivete coppa di Licurgo e trovate la spiegazione che vi viene fornita c'è roba che farebbe veramente incazzare anche Gesù c'è scritto che praticamente boff non si sa in che modo l'abbiano costruito forse non lo sapevano manco loro forse è una cosa così uscita a caso ma come si fa a scrivere una roba del genere cioè piuttosto dite che non sapete come l'avete costruita ma cioè che non sapete come quelli là l'hanno costruita ma quelli che l'hanno costruita cavolo lo sapranno no cioè stiamo parlando di nanoparticelle d'oro non l'ha detto Davide Ramonno Davide Ramonno non è nessuno non è nessuno di importante non gli frega niente questa è una coppa del quarto secolo in cui bevevano il vino no ecco e parliamo del quarto secolo quindi pensate e considerando che tra l'altro il sapere è andato degradandosi esattamente come oggi no appunto dove appunto il sapere è andato degradandosi e quindi per rinascere dobbiamo puntare su persone che invece hanno dedicato al sapere tutta la loro vita laddove il sapere è anche chiaramente correlato all'etica non c'è sapere senza etica quindi dopo tutto se il sapere non è finalizzato a migliorare la nostra vita allora che cosa serve è un sapere inutile se anche vivessimo mille anni ma non avessimo un'etica morale allora chi se ne frega possiamo anche domani avere l'elisire dell'eterna vita saremmo veramente dei parassiti allora sì avrebbero ragione no quindi è per questo che infatti volevo chiudere romanticamente perché comunque richiamando quello che dissi al principio no cioè al di là del quello proprio in questo periodo in cui c'è stata venduta la nostra esistenza come una mera nuda vita biologica ebbene nella nella natura ci sono già gli strumenti per poter avere una vita migliore una vecchiaia migliore e questo è nostro dovere per seguirlo non perché è importante avere una vita lunghissima ma semplicemente perché è immondo avvelenare come stanno facendo già oggi molto prima del 2020 insomma con delle sostanze tossiche persone malate quindi con sostanze che sappiamo già benissimo che porteranno alla morte quindi ripeto non posso parlare liberamente per questo che è anche importante vederci agli eventi perché se no perché almeno li possiamo parlare senza filtri cercate di capire tra le righe tra virgolette quindi l'olio è certamente veramente un balsamo è veramente un balsamo per il nostro corpo però non conta solo quello non conta solo quello e per questo che appunto dobbiamo ringraziare i greci non solo per aver custodito quella che è la pianta più importante di tutte che è l'olivo no Solone quindi uno dei più grandi legislatori del VI secolo appunto aveva impostato delle leggi ben precise come ho detto prima addirittura punivano la morte per chi osasse estirpondire un olivo considerate che nella stele di come si chiama nella stele di Amurabi nel codice di Amurabi anche lì è legiferato come doveva essere coltivato l'olivo perché l'olivo si è molto facile che si che si inselvatichisca no non so se è giusto adesso il verbo sono troppo stanco ma però perché appunto non è naturale è frutto di una manipolazione genetica e quindi è chiaro che appunto se è lasciato allo stato selvatico perderebbe quella connotazione quelle quelle proprietà quei cromosomi che l'hanno distinto no da dall'oleastro no esattamente come l'uomo quindi doveva essere custodito isolato è per questo che infatti c'è addirittura un santuario che quindi custodisce isola la pianta loro lo sapevano benissimo quindi l'olivo è essenziale per avere una vita sana quindi punto primo ma poi c'è la filosofia questo è il vero retaggio no la filosofia nel senso l'amore per il sapere la filosofia cioè vivere una vita non come bestie perché anche se vivessimo mille anni ma vivessimo come bestie saremmo delle bestie resteremmo delle bestie quindi noi oggi abbiamo siamo gli eredi della civiltà mediterranea e appunto abbiamo ripeto abbiamo visto come l'olivo è stato attaccato esattamente come noi quindi e l'unione europea è certamente un cancro da estirpare perché è una delle prime cause è una delle prime cause di tutte le ombre metastatiche che appunto intralciano e non ci permettono di vivere come uomini gente come Emma Bonino e come politici partiti inutili e veramente diabolici come più Europa vanno fermati poiché si vantano anche di essere finanziati pubblicamente da Soros io su questo voglio anche fare una riflessione di cui parleremo dagli eventi dal vivo poiché benvenuti nel 2022 abbiamo dovuto calcolare e contare ogni singola parola al punto che solo chi veramente sa di cosa stiamo parlando riesce a decifrare stiamo parlando in codice come come si faceva in antichità cioè si veniva bruciati in pubblica piazza quindi ci si riuniva in riunioni segrete noi lo facciamo alla luce del sole ma a parte che in questi 1200 persone di sicuro c'è qualcuno che è lì solo per controllare ma vi posso garantire che stiamo parlando in codice quindi stiamo veramente cercando di far capire che facendo finta che è proprio come una mandria cioè l'essere umano è una mandria veniva in qualche modo coltivata e in qualche modo allevata in questi gang Eden che altri non sono e non erano se non recinti quindi giardini recintati in cui oltre all'uomo c'erano piante c'erano vegetali c'erano animali e cosa fa il fattore con gli animali da cortile ne va a vedere quella che è la produttività quindi devono lavorare devono in qualche modo portare a termine il loro compitino che è riguardante loro ma non solo ma c'è anche tutto un discorso sull'energia di cui non è tema di questa puntata ma oggi abbiamo parlato del corpo tutto ciò che è spirito anima è tema di altre puntate perché già così siamo solo a due ore però vi posso garantire che abbiamo colto nel segno poiché ancora oggi nel 2022 c'è chi dice che oltre a una certa età gli uomini in fondo anziani che cosa sono se non un peso vi ricordate anche il nazismo questi tanto hanno demenza senile hanno alzheimer non servono ormai sono inutili sono un costo quindi andiamolo a vedere anche con la puntata di lunedì lo dicevano i nazisti che vuoi che sia lo dicevano i nazisti lo dicono purtroppo ancora oggi infatti no quindi però prima ci si indignava per l'eutanasia eugenetica per queste cose qui adesso invece sembra non essere una cosa normale adesso è progressismo essere di sinistra essere antifascista ecco quindi in realtà vi posso garantire che andiamo a vedere veramente come alcuni umani hanno a che fare con quelli che sono gli allevamenti intensivi come trattano gli alimenti gli animali gli alimenti come trattano tutto e insomma tutto sembra non avere un senso finché non arriva al paradigma della fattoria noi possiamo discutere l'animale che si sente libero all'interno di un recinto l'animale che ha paura di un lupo di un qualcosa che viene da fuori ma che poi è in qualche modo l'allevatore stesso che lo stermina anche quando si parla di animali quindi il bovino adulto ragazzi è a un decimo di quello che potrebbe vivere quindi no ma quello li tiene bene il bovino andate a vedere anche l'età di macellazione di tutti gli animali che qualcuno ha reputato essere commestibili dal maiale al bovino andate a vedere a quanto corrispondono nella vita umana quindi non sono neanche adolescenti di quello che potrebbero vivere se qualcuno non decidesse che li ha levati al solo scopo di mangiarli quindi anche qui andiamo a vedere invece che cosa ci ha raccontato lunedì la puntata sui nativi americani ormai è un gioco al massacro non ha più senso diventa diventa un gioco sadico diventano dei lager e non ha più senso quella vita quella competizione quindi l'uomo è un disadattato un elemento estraneo dove lo metti lo metti in realtà morirebbe non è in 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 simbiosi non è in in sinuosità non è nel nel niente quindi tutti gli animali arriva un terremoto fra l'altro un abbraccio agli amici del centro Italia che questa mattina si sono svegliati di nuovo con un esimo terremoto ma arriva un terremoto arriva una calamità naturale tutti gli animali lo sentono tranne l'uomo l'uomo se non adattasse il clima esterno per renderlo in qualche modo proprio non potrebbe sopravvivere quindi dal parto stesso dalla vita stessa dalla gravidanza dall'essere spediti sulla terra senza le istruzioni non ha istinto quindi è un disadattato c'è qualcosa che andrebbe e andrà svelato non abbiamo fretta sono chiacchierate che possiamo fare in codice perché non siamo in democrazia non bastano tutti i dispositivi sul non parlare di quanto fallaci siano le elezioni in giro per il mondo non basta proibirci di parlare in ambito sanitario in ambito emergenziale di ciò che è la pagliacciata nuova della CO2 di quello che viene fatto in Egitto dove si riuniscono per parlare di clima con una marea di jet privati con lo sponsor della Coca-Cola ma io dico ma quanto puoi essere demente per credere che a qualcuno freghi qualcosa del clima e dell'uomo quando è sponsorizzato Coca-Cola ci vanno con i jet per dire ai poveracci che devono comprarsi la macchina e che devono mangiare insetti questo è quello che stiamo vivendo io spero che queste puntate condividetele e andate a prenderle a pezzi grazie di cuore a chi li ricondividi a chi li mette su TikTok su Facebook condividere Facebook la puntata fatene ciò che volete facciamola arrivare a più persone possibili perché la gente non crederà l'uomo nel futuro spero passato tutto quanto farà fatica a credere a quello che stiamo vivendo e a quello che era un anno fa io mi ricordo un anno fa quando passavamo insieme tutte le sere per farci forza del fatto che non si poteva entrare nei negozi cioè era il coprifuoco non potevi scendere di casa non potevi andare oltre quello che era il giro del palazzo altrimenti si incorreva in sanzioni una sicurezza che adesso adesso vale tutto per le strade ovviamente la delinquenza è tornata nella più rosa delle sue sfaccettature ma noi non potevamo uscire di casa Barbara Durso inseguiva le persone in diretta televisiva nei boschi nelle spiagge ma andava a inseguire quelli che andavano i cieli ma siamo al ridicolo stiamo fra di noi vediamoci dal vivo e lì possiamo rispondere a molte più domande io direi che dopo due ore dieci fra l'altro Davide spiegaci bene dove è il libro come possiamo acquistarlo ovviamente anche dagli eventi dal vivo ma se uno lo volesse stasera o domani il libro grazie ancora a Gianluca Capaldo che mi ha ci tengo di nuovo a ringraziarlo per questa cover stupenda ci tengo a ringraziare Stella che mi ha curato l'editing ci tengo a ringraziare Dago Lorai che mi ha curato il progetto grafico e ci tengo a ringraziare tutte le persone con cui ho parlato che mi hanno supportato che mi hanno tollerato con cui abbiamo discusso perché comunque io stesso ogni idea deve confrontarsi anche con qualcuno che la neghi ogni idea deve essere falsificabile e quindi insomma ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato veramente e il libro lo trovate su Amazon come ho già detto non mi impazzisco mi fa impazzire questo strumento però anche YouTube ci censura anche Facebook ci censura se utilizziamo possiamo utilizzare questi strumenti contro quindi per infettarli con delle idee sane ok quindi questo è l'obiettivo cercare di unire oggi che l'ego divide anche le persone della cosiddetta controinformazione che non esiste esiste il vero e il falso non la controinformazione appunto cerchiamo di veramente di metterci insieme e anche questi eventi veramente servono proprio per anche per creare delle nuove amicizie e perché l'amicizia è anche questo scambio di emozioni anche conoscenze e poi dopo insomma un sorriso voglio dire se ce l'hanno impedito se ce l'hanno fatto nascondere perché vuol dire che è fondamentale perché ci dà la vita in tutti i sensi va a ridurre lo stress ossidativo quindi vale anche per la chimica non vale soltanto per il cuore spirituale vale anche proprio per la chimica quindi sostenetici come già state facendo quindi non è un appello già lo state facendo quindi vi ringraziamo l'abbiamo visto anche all'evento di Torino persone che venivano da ogni parte d'Italia ringrazio anche Luciano che ci ha portato addirittura il pane la pizza cioè ragazzi abbiamo avuto un amore che era tangibile in tutti i sensi quindi stateci vicino noi cercheremo di fare altrettanto stiamo è chiaramente difficile organizzare il tutto e venire in ogni parte d'Italia lo stiamo cercando di fare gradualmente ma i nostri mezzi sono limitati la nostra volontà però è infinita quindi alla fine vince a lungo termine quindi anche a Milano adesso il 27 novembre chi può venga vi assicuro che siamo più belli nella realtà e scherzo no questo è uno scherzo è vero siamo più belli più alti infatti da questo profilo cioè è vero potrete assicurare potete comunque constatatelo voi stessi fatecelo sapere questo numero io ci tengo davvero tanti dicono venite non è veramente retorica ma per fare in modo che ci spostiamo anche un po' più lontano dalla nostra comfort zone dipende anche dalla partecipazione perché ogni evento per noi è un salto nel vuoto siamo pieni di spese location viaggi organizzazione logistica organizzazione nei giorni per gestire le pronotazioni quindi per noi è sempre un salto nel vuoto speriamo di poterci rientrare ma non abbiamo mai la certezza tanto più parteciperete agli eventi tanto più ne organizzeremo di nuovi spingendosi sempre un po' di più al di là della nostra comfort zone quindi Torino che è la mia città Brescia che è più vicino a me Sbet Milano dove c'è Davide Firenze dove c'è Nicola stiamo sicuramente bagliando Bologna la Liguria il nord est abbiamo provato in esplorazione con una delegazione questa estate su Roma proprio con te Davide quindi un abbraccio agli amici di Roma che in qualche modo stanno collaborando con noi sta nascendo veramente un movimento in tutta Italia io vi chiedo di partecipare agli eventi da vivo sostenere il canale con una donazione con un abbonamento acquistare quello che è il nostro merchandising che poi è una scusa per è un pretesto per autosostentarci infatti anche lo stesso libro ci tengo a dire nel senso che parte diciamo dei dei proventi insomma vengono devoluti poi facciamo finta che proprio perché appunto mi è stato dato molto e quindi io cerco di restituirlo di restituire una parte di quello che ho ricevuto e quindi ribadiamo noi abbiamo un sacco di idee tra l'altro cerchiamo di allargarci in tutti i sensi su ogni fronte e anche chi ha delle idee ci scriva perché appunto noi stiamo cercando di costruire una realtà che va al di là di un canale delle visualizzazioni di queste sterili logiche dall'altra parte della fronte noi abbiamo avuto finti comitati scientifici che non avevano niente di scientifico noi possiamo creare una risposta a questo con non dei comitati perché è brutta come parola comitato di salute pubblica lo si utilizzava nel 1800 con Robespierre infatti abbiamo avuto anche lì l'avvocato del popolo il terrore e quant'altro ma delle assemblee di persone con delle competenze con delle virtù che se sono insieme se sono unite possono cambiare la realtà la realtà delle cose qua si parla proprio della vita nostra dei nostri figli non si sta parlando semplicemente di avere qualche soldo in più al mese di stipendi non si sta parlando di queste cazzate qua hanno attentato proprio alla nostra vita ragazzi quindi anche adesso si parla di sovranità alimentare abbiamo il ministro della sovranità alimentare c'è stata un'indagine sulla situazione della xylella della magistratura quindi non di Davide Ramon in cui si è chiuso con un nulla di fatto ma con una frase che è una condanna cioè il fatto che si è fatta una guerra biologica sono le guerre del nuovo secolo una guerra biologica è stato fatto un attentato all'Italia e a una regione in particolare la Puglia che provvedeva cioè ripeto da sola la Puglia era il 12% di tutto l'olio extravergine mondiale e noi lo dobbiamo adesso importare da paesi e siamo ritornati veramente al Medioevo ma neanche al Medioevo siamo molto peggio e quindi diciamo che nel piccolo noi possiamo cambiare le cose veramente questo è si parla sempre di consapevolezza di consapevolezza ma cos'è la consapevolezza la consapevolezza è sapere quali sono i problemi e dove intervenire ripeto se voi siete 1200 oggi ognuno di voi ha un vissuto esistenziale ha delle capacità ha delle conoscenze sa fare delle cose e quindi quel sapere diventa potere quindi potere non di travalicare gli altri ma di aiutarsi ci tengo anche a dire in ultima analisi che io faccio questo come terzo lavoro perché non mi posso ancora fidare di quello che ne deriva Davide stesso è stanco perché anche lui come terzo lavoro si dedica a questo e se per farlo diventare un primo lavoro per noi e per altri ho letto anche vari suggerimenti perché no anche pubblicare libri anche da altri il progetto ce l'ho scritto e ho pensato alla casa editrice ci stiamo pensando vorremmo poter dare lavoro anche ad altri dipende da voi dalle vostre donazioni da quanto credete in noi e speriamo di renderlo un progetto concreto quindi per ora non stiamo saltando una serata stiamo sacrificando veramente tanto ma perché abbiamo anche fretta di portarlo un progetto che possa essere e sopravvivere a youtube solo su youtube non ci fidiamo e abbiamo una gran paura di quello che può accadere domani quindi aiutateci a farne un lavoro a tutti gli effetti detto questo promo sigla grazie di cuore Davide grazie di cuore Mesbet grazie di cuore a tutti voi una bella ondata di home in chat finale che sia il nostro simbolo che ci contraddistingue e ci fa riconoscere anche con gli altri su altri canali su altre chat su altri social usate l'home è un simbolo che abbiamo spiegato tante volte ed è il nostro simbolo quindi qua parte vi voglio bene appuntamento alla prossima promo sigla grazie a tutti buonanotte come scrisse George Orwell chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato facciamo finta che è il canale youtube ideato e diretto da Gianluca Lamberti sono quattro i nuovi video ogni settimana il lunedì il mercoledì il venerdì e la domenica alle 21 e 30 in diretta sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione facciamo finta che è presente su ogni social a te a te basterà seguirci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.